guerrieri guerriere buongiorno siamo inizio anno e la gente comincia a guardarsi in giro per le attività da fare in palestra e quindi le grandi domande il Krav Maga può fare per te che cosa ti può dare e che cosa non ti può dare sicuramente che cosa aspettarti dal Krav Maga che magari normalmente non ti aspetteresti nel Krav Maga le lezioni sono molto varie ogni lezione è diversa dall'altra e questo per ottimi motivi uno dei quali sta nel fatto che le persone hanno bisogno di essere attivate mentalmente vengono da una lunga giornata di lavoro una lunga giornata di studi molto spesso da diversi casini risolti o non risolti hanno bisogno di staccare un altro aspetto molto importante è l'aspetto del gestione dello stress e dello scaricare lo stress e le lezioni di Krav Maga sono diciamo piuttosto intense con momenti di picco e momenti diciamo di calma l'idea quale è l'idea è chiaramente fornire un allenamento che sia appagante dal punto di vista fisico dal punto di vista mentale e quindi consente a discaricare anche lo stress una giornata allo stesso tempo abitui la persona gestirlo meglio che cosa vuol dire che questo tipo di abilità poi uno sarà riporta nella vita di tutti i giorni ed ecco perché molte persone si appassionano a questa disciplina perché la usano tutti i giorni un altro aspetto molto importante è che il gruppo si forma molto velocemente il tipo di disciplina prevede che chiaramente ci siano degli scambi ci sia un lavoro a contatto e questo crea chiaramente deve creare un clima di fiducia perché nel momento in cui io attacco il mio compagno mi fido che lui non mi ucciderà col contrattacco e viceversa e oltretutto io per poter allenar bene il mio compagno poter essere allenato bene devo essere verosimile negli attacchi quindi mi devo impegnare devo fare qualcosa per lui che cosa quindi puoi aspettarti e non puoi aspettarti dal cramagà non puoi aspettarti delle gare mi dispiace gare uguale no cramagà e non puoi aspettarti delle forme a vuoto dei lavori a vuoto dei kata diciamo perché la disciplina non lo prevede non sono funzionali a quelli che sono gli obiettivi del cramagà ma di sicuro puoi aspettarti delle lezioni che siano sempre diverse le une dalle altre per i motivi che ti ho detto delle lezioni in cui scaricherai lo stress e imparerai come gestirlo meglio e infine cosa non da poco aspettati di farti una nuova cerchia di amici e questo è tutto gente grazie a tutti grazie a tutti